Siamo qui a Milano, il via Molino delle Armi, presso il nuovo showroom di Eclisse, che ci ha contattati per partecipare a un loro progetto. L'utilizzo della carta da parati per rivestire le loro porte a totale scomparsa e realizzare delle superfici continue di grande impatto visivo. Nel nostro showroom di Milano abbiamo presentato la nuova collezione Synthesis e quindi tutti i nostri prodotti per il filo muro senza cornici, senza finiture esterne, che prevedono le soluzioni a scomparsa, le soluzioni battenti e il batiscopa. Il batiscopa è una soluzione che abbiamo in esclusiva e che ci permette di arrivare fino a fine telaio con un batiscopa completamente integrato nella parete. Nello showroom abbiamo voluto presentare la collezione con una nuova veste, con questo meraviglioso decoro di inchiostro bianco con cui abbiamo deciso di collaborare. Siamo veramente felici di presentare qui. Nell'altra stanza invece presentiamo quello che ormai noi consideriamo un classico, e cioè il sistema di scorrevole scomparsa, con grandi dimensioni, per porte circolari. Lo showroom è aperto tutti i giorni della settimana, dalle 9 alle 17. Il nostro personale è a disposizione per mostrarvi tutte le nostre soluzioni e per indirizzarvi verso i nostri migliori rivenditori. Grazie a tutti.